Il passaggio generazionale all'interno di un'impresa probabilmente è stato visto dall'imprenditore fino ad oggi come una sorta di successione, di perdita della sua posizione di pensionamento che l'imprenditore per sua formazione certamente non vuole accettare, mentre poi è un fatto ineluttabile della vita e quando arriva troppo tardi perché ci si arrende all'ultimo momento si è persa l'opportunità di dare una continuità formando le persone e utilizzando il momento migliore della propria vita perché ciò su cui si è investito tutto il tempo passato continui con persone competenti e che hanno compreso. Ecco, è a mio parere un puro aspetto psicologico, è il timore di non fermarsi al momento giusto e di avere la paura di non esserci più e invece il passaggio generazionale è un modo per esserci ancora trasferendo le proprie conoscenze. I consigli che si possono dare a un imprenditore non sono consigli di gestione della sua attività per attuare un passaggio generazionale, sono consigli che riguardano la psicologia interna il proprio modo di essere su questa terra e capire appunto che il portare ad altri che poi probabilmente o quasi sempre sono i propri figli o comunque parenti molto vicini portare ad altri la propria esperienza, darla a loro è un modo di continuare ad esserci e tra l'altro questo passaggio può avvenire con una compartecipazione, non è necessariamente un distacco completo, un essere messi da parte, si può compartecipare, trasferire e vedere che il proprio passato continua e procede migliorando le performance dell'attività. La cultura del passaggio generazionale deve anzitutto essere appresa, si deve capire che esistono dei meccanismi che sono giuridici ma che nascono da una verifica che l'Unione Europea ha portato avanti da decenni per impedire che milioni di imprese, parliamo di un numero così elevato, si perdano nel tempo di un passaggio o due di generazioni. Quindi la cultura sta nel comprendere il problema e nel rendersi conto dell'importanza di affrontarlo con il tempo necessario perché tutto questo meccanismo sia all'interno della propria concezione della vita e tengo che questo sia l'aspetto più importante, cioè rendersi conto che la nostra vita ha dei limiti ma che noi possiamo portare avanti ciò che abbiamo fatto trasferendolo e tutto questo naturalmente va fatto con l'aiuto delle persone che hanno delle competenze specifiche e che hanno una professionalità nel attuare i passaggi generazionali che sono competenze giuridiche, sono competenze psicologiche, sono competenze economiche ma che possono aiutare l'imprenditore a raggiungere questo obiettivo che assolutamente non va perso.